Sarà destinato ad opere sociali l'incasso delle prove generali di alcuni spettacoli del San Carlo, che anche quest'anno scende in campo per sostenere i più bisognosi. Si parte domani, 16 novembre, con l'anteprima della Semiramide di Rossini in favore dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ma sono nove i soggetti beneficiari dell'iniziativa, dalla Caritas alla Fondazione Valenzi, dai senza fissa dimora a quanti operano al fianco dei bambini ricoverati al Santo Bono. E accanto al progetto per il sociale, al San Carlo torna anche quello per le scuole, con l'avvio dal primo dicembre della stagione educational dedicata ai ragazzi da 5 a 25 anni. Le attività messe in campo sono tantissime, che vanno soprattutto ad un'attenzione che una istituzione come il San Carlo deve attenzione e radicamento nel territorio. Quindi aperto a tutti e aperto anche a chi soffre sul territorio e nel mondo. Con l'obiettivo di coinvolgere un maggior numero di giovani, il calendario degli eventi, articolato in 12 spettacoli per tutte le fasce d'età, si apre con il personaggio animato musico De Musicis e prevede anche una manifestazione dedicata al ventennale della morte di Falcone e Borsellino. In cartellone anche esibizioni delle compagnie stabili del Massimo, opere di Gaetano Panariello per diffondere le realtà e le culture del paese e la terza edizione del premio Teatro San Carlo. Sono inoltre previste per gli universitari offerte speciali per l'acquisto di biglietti.